Devo dire che il Napoli ha vinto meritatamente lo Scudetto perché nella prima parte del campionato ha usato una tattica un po' particolare, quella del capire che c'era una prima sezione, poi c'erano i due mesi di sosta del campionato per i campionati del mondo e poi riprendeva il campionato. Secondo me Spalletti ha fatto una preparazione leggera per mandare subito in forma la squadra che della prima parte ha aumentato veramente a dismisura il vantaggio sugli seguitori perché è semplice. Mentre il Napoli andava ad allenarsi 30 giorni in montagna e poi faceva partite amichevoli nelle vicinazze, le altre andavano in giro per il mondo, non si allenavano, facevano partite amichevoli per guadagnare dei soldi. Sono arrivate in Italia, praticamente non erano allenate, i soccatori piantati per terra, Napoli andava e così praticamente è venuto fuori quel vantaggio.